buonasera cari telespettatori oggi da cibo e fantasia abbiamo pensato e vi vorremmo proporre un dessert facile da preparare e in pochi minuti vi auguro una buona visione gli ingredienti che ci servono per poter realizzare questo dessert sono i seguenti frutta a vostra scelta noi abbiamo pensato e utilizzeremo una banana, un'arancia, due mele e un limone poi ci serve datteri, noci già tagliate e alcune mandorle il miele, dei biscotti al cioccolato a vostra scelta, gocce di cioccolato, yogurt magro bianco una coppetta e un recipiente dove andremo a tagliare i vari ingredienti o meglio la frutta e infine dei bastoncini di cioccolato adesso siamo pronti per andare a realizzare il nostro dessert andiamo con la preparazione adesso come vedete andremo a tagliare a cubetti la frutta come vedete qui abbiamo già spellato l'arancia, le mele e la banana adesso le trasformeremo a cubetti o meglio le taglieremo a cubetti o meglio le taglieremo a cubetti le taglieremo a cubetti dopo aver tagliato anche le arance andremo a tagliare anche la banana in tanti cubetti adesso la frutta che abbiamo tagliato la mettiamo all'interno di un recipiente dove abbiamo già messo un cucchiaio di miele adesso con il limone lo utilizzeremo schiacciandolo per non far cambiare il colore alla frutta adesso andremo ad aggiungere lo yogurt bianco e mescoliamo aggiungendo anche datteri, mandorle e noci cia tagliata insieme a loro aggiungeremo un po' di gocce di cioccolato e andremo a mescolare il tutto come ho detto mescoliamo adesso sopra la coppetta andremo a mettere un po' di miele per decorare il nostro dessert e aggiungiamo il composto che abbiamo creato diciamo adesso aggiungeremo come ultima decorazione un po' di yogurt al posto dello yogurt potete mettere anche la panna come decorazione a vostro piacimento adesso come decorazione aggiungiamo un altro po' di miele un po' di decorazione a vostro piacimento noi abbiamo i biscotti utilizziamo i biscotti dei bastoncini di cioccolato per abbellire il nostro dessert per gustarcelo un po' di gocce di cioccolato che non guastano mai un po' di datterie, un po' di mandorle, un po' di noci e un po' di datterie e voilà, questo è il nostro dessert facile da preparare in pochi minuti e goloso potete abbellirlo come volete se vi è piaciuto la ricetta e il video lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale youtube lasciate dei commenti e da Cibo e Fantasia è tutto ci vediamo per un'altra ricetta grazie a tutti grazie a tutti